Verrà inaugurata domani alle ore 17.30 nella sede della Proloco di Caserta all'interno della Reggia Van Vitelliana la performance artistica di Rosa di Donna affiancata dall'attrice casertana Antonio Oliva. La Sirena della Reggia, la mia seconda pelle, questo è il tema al centro della mostra che potrà essere visitata fino al 12 agosto. La Sirena della Reggia che crea Rosa di Donna come artista è la Sibilla Cumana in quanto la Sibilla Cumana abita nei pressi della Reggia e si rega alla Reggia a insegnare alla famiglia reale il canto il canto soave ma non solo ma anche insegna ai giovani di Caserta l'arte della tessitura. Questa è la Sirena che crea Rosa per ogni posto che si rega con lo svecchiamento dell'arte lo svecchiare l'arte, quello di nicchia per dare la possibilità a nuove leve, a giovani artisti infatti io mi circondo di questi giovani artisti che hanno questa possibilità insieme agli affermati di affermarsi anche loro. C'è un messaggio anche in diretto che arriva ai giovani, quello di svecchiare l'arte. In che modo? Lei lo farà in un modo molto originale, giusto? Certo, io lo faccio in modo originale perché arte è la mia seconda pelle, quello è il mio messaggio. Il mio messaggio, come dicevo, appunto mi circondo di queste ragazze che cominciano a svecchiarmi così perché la sirena è quella che in realtà lei aveva chiesto la Sibilla Cumana, l'eternità al Dio, è una sacerdotessa condannata da Dio. Infatti io sono nell'arte la sacerdotessa nell'arte. Questo abito sacerdotale con tutto questo materiale inedito non è altro che sono delle cellette a cui si nascondono gioia e dolori.